Il tempo passa così veloce che siamo già al 26 marzo. Mauro è ancora qui con voi con l'almanacco e con l'oroscopo Sant'Emanuele. Auguri a Emanuele e anche a Emanuela. I nati oggi i compleanni Roberto Bolle, il ballerino di danza classica, è nato il 26 marzo del 1975. Un conduttore televisivo e radiofonico Marco Predolin, nato il 26 marzo del 1951. Proverbio di questo 26, talora quella che noi crediamo una disgrazia, viene per farci del bene ed è una grazia. Potremmo anche condensare e non tutto il male viene per nuocere. L'almanacco termina qua ma adesso andiamo con i 12 segni dall'Ariete ai pesci in questo 26 marzo. Ariete, uno dei modi per comprendere gli altri è quello di ascoltarli quando parlano. Oggi voi invece parlate ancora prima di avere pensato, riuscirete comunque simpatici per la vostra spontaneità. Evitate cibi piccanti o particolarmente elaborati. Toro, oggi della vita amerete tutto, farete tutto volentieri e non superete il tempo a lamentarvi come fa qualcuno accanto a voi e nemmeno gli ricorderete i suoi doveri e vi prenderete carico anche dei suoi problemi. State già pregustando quell'invito. Gemelli, sentirete la necessità di movimento fisico, fate della ginnastica, dello sport, riuscirete probabilmente a trascinare in questa iniziativa molti dei vostri amici. In una circostanza saprete trovare le giuste parole e la soluzione migliore. Cancro, la vostra inquietudine potrebbe portarvi a richiudervi come un riccio. Non fatelo, sarebbe meglio trovare chi in questo momento può trascinarvi con la sua allegria dirompente. Non avete bisogno di essere così profondi e riflessivi, un pizzico di superficialità a volte aiuta. Leone, vi verrà sottoposta a una questione delicata. Saprete essere all'altezza della situazione e ciò vi potrà apportare una favorevole pubblicità. Fate attenzione alle invidie che questo episodio potrà arregarvi. Un invito a pranzo vi metterà in contatto con persone molto interessanti. Vergine, vi sentirete pieni di buon umore. La vostra proverbiale pignoleria oggi verrà premiata dagli elogi di una persona per voi molto importante. Sarà possibile anche ritrovare l'armonia in un rapporto che ultimamente appariva un po' logoro. Serenità ritrovata. Bilancia, fate tesoro dei consigli di una persona che vi vuole sinceramente bene. Ci sono possibilità che entriate a fare parte di un'organizzazione che vi porterà a contatto con persone altolocate. Non sentitevi a disagio. La vostra energia è sempre a livelli molto alti. Scorpione, non dovreste continuare a stuzzicare quella persona. È vero che è molto timida, ma se voi continuerete a tampinarla, prima o poi sfodererà le unghie e vi darà un bella sistemata. Non lamentatevi poi se la vostra permalosità e il vostro orgoglio ne usciranno feriti. Ve lo sarete meritati. Sagittario, sorrisi e approvazioni in ogni campo oggi. Il morale risulterà altissimo, quasi alle stelle. State coltivando la segreta speranza di un fine settimana veramente speciale. Cercate di essere più ordinati. Potreste correre il rischio di perdere cose importanti. Capricorno, l'ambiente nel quale state vivendo è di totale apertura. Non ci sono segreti, ma a voi questo non piace e alle continue domande di chi vi circonda rispondete a monosillabi. Voi volete mantenere il vostro privato ben separato dal mondo esterno. Non sarete per questo capiti. Acquario, è in gioco il mondo dei sentimenti e delle emozioni oggi. Sarete tra due fuochi, in quanto le persone alle quali avevate rivolto un invito giorni fa risponderanno entrambe di sì. E a questo punto? Il desiderio è di sfuggire, anzi di fuggire lontano, ma in fondo il rischio vi affascina. Giocherete alla meglio. Pesci, oggi qualcuno vi dirà che apparite più lontani della luna. In effetti il vostro atteggiamento appare freddo e distante, poiché sarete continuamente assorti nei vostri pensieri. Pensieri che, a dire il vero, non riguardano affatto quello che state facendo. Vitalità in ribasso.